Ciao ragazzi bentornati in questo nuovissimo video ragazzi siamo in come vedete su brawl stars ragazzi oggi useremo una missione faremo in modo che jesse completerà la sua missione per la brawl pass cioè quella del sconfiggio 12 nemici io potrei riuscirci se non in raffagemme perché in solo non li potrei mai uccidere così tanti però in raffagemme c'è più possibilità quindi ragazzi andiamo a fare subito la missione che non voglio perdere tempo e ragazzi questo video sarà caricato insieme a tre video che usciranno allo stesso tempo nel canale di tutti e tre i canali in senso sia su dragon red che su red che su dragon red tv perché ragazzi oggi volevo dire oggi volevo no volevo fare qualcosa non attenzione lì sono pieni però è infatti mortacci e non posso beccarlo ragazzi è impossibile no ragazzi sono troppi però eh sono troppi eccoli qua non l'ho ucciso io poi no l'ho fatto fuori lui no no l'ho fatto fuori lui no no c'era dobbiamo uccidere almeno 12 di quelli eh ok ce ne andiamo potrei ucciderli attenzione no ragazzi li ho ucciso io quelli di là perché sarebbe meglio quanto ne ho uccisi mamma mia ragazzi mamma mia buono ma buonissimo e che cavolo ragazzi è buono è buonissimo ragazzi va bene dobbiamo fare così anche nella prossima dobbiamo cercare di uccidere di più perché dobbiamo completare questa missione che io la vorrei completare c'è anche la missione mortis ma io ragazzi mortis non la uso cioè non lo uso perché è da un po' di tempo che mortis mortacci gadget del nostro amichetto stecca no raga non ce la faccio ad uccidere li sono troppo forti e io non so che fai ragazzi perché poi non lo so cavolo no che è successo cavolo no è che ragazzi io sto cercando di completare la missione più che altro perché poi Brawl ha aggiunto le sue missioni con le gran cavolo di missioni ragazzi io non so che fare non so che fare è difficile attenzione uccidilo attenzione che qui ne uccidiamo un po' troppi no l'ha ucciso lui attenzione no eh no no Bibi è stato no è stato ucciso raga no no raga io non so che fa e non so che fare che mi hanno perso perché poi ah no attenzione potremmo vincerla se Bibi si allontana molto molto di più di prima e molto eh raga abbiamo fatto anche tanti kill quindi raga vinciamo in un modo pazzesco mamma mia se è stato no raga ho sparato di nuovo all'avversario nel senso neanche saperlo mamma mia mamma mia no l'abbiamo mandato di grado peccato che perché io ragazzi non mi piace un sacco mandarlo di livello cioè di grado no perché poi c'è più difficoltà ma vabbè dai almeno poi almeno così ce l'abbiamo così poi ce l'abbiamo anche se partire con Mortiz io raga non lo uso da un sacco di tempo io non lo so usare bene quindi è un problema però vabbè cerchiamo di fare un'altra partita l'ultima e poi basta dai questo raga lo programmo per vabbè ovviamente per voi sarà nient'altro che oggi ma io questo video lo programmo insieme ad poi non lo so potrei rifarlo ma in un altro modo attenzione allora in realtà Jessica è molto utile perché ecco l'imbalsa i suoi colpi c'è neanche tra con gli avversari ma di tutti attenzione attenzione no cavolo eh raga però c'è non so come fare non so veramente sono veramente attenzione ecco le bombe le abbiamo trovato quel maledetto no è dall'altra parte mamma mia ce l'abbiamo qui ragazzi io so dov'è eccolo mamma mia mamma mia ragazzi ce l'abbiamo fatta mamma mia che partita mamma mia che partita ragazzi mamma mia che partita abbiamo fatto cioè ma che partita era cioè veramente mamma mia è stato fantastico cioè veramente ragazzi è stato veramente molto molto fantastico sto video ragazzi deve raggiungere almeno 10 like perché jessy se li merita questa jessy qua se la merita perché ragazzi oggi abbiamo fatto tre vittorie e io manco credevo non ci credevo in realtà di vincere quindi ma quanto abbiamo perso di tofei neanche non li abbiamo persi li abbiamo di più non li abbiamo di più dobbiamo arrivare a 13.000 ragazzi perché almeno a 13.000 ci devo arrivare perché poi è da un po' che non ci gioco quindi vorrei un po' arrivare a quello poi ragazzi vi vedo un'altra cosa ma hanno cambiato qualcosa e voglia hanno cambiato e hanno cambiato caspita 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 e quindi e io in che cosa ah io sto in questa ok sto in che lì ma che cosa è questo quindi hanno aggiunto un uovo c'è ecco c'è questo c'è di trofei no di tipo che è questo ah no questa di corvo si sblocca a livello 120 questa se si arriva a 13.000 tipo che non c'era vabbè e quindi io rimetto corvo ci mancano anche dei brawler mamma mia allora l'aspetto di corvo è cambiato e quindi è molto più bello ora però ragazzi spero che non so che aggiungano un brawler ancora più forte perché ragazzi è vero che aggiungano più brawler forti e quindi è più difficile giocarci però è molto più interessante poi hanno aggiunto questi gadget quindi molto molto interessante peccato che io non ci gioco da un po' di tempo quindi i gadget non li ho completamente tutti li dovrò avere con molta molta difficoltà ovviamente quindi ragazzi spero di averli più presto possibile spero di avere quello di cos'è questo ah è vero posso vedere attraverso i cespui c'è una missione che è molto utile quindi ragazzi per dire pure molto utile cioè quella di jessi qual era il gadget di jessi che cosa fa candela di attenzione jessi si sfrutta la sua torretta per creare una onda d'urto che rallenta i nemici nell'area effetto ah buono cioè per dire tutte queste tutte queste nuove evoluzioni che la super stella ha fatto nel gioco del su brawl stars è molto molto bello quindi ragazzi spero di vedere anche altre evoluzioni come vedete ragazzi abbiamo quasi al grado 20 pam non lo so se domanderò ma vabbè poi abbiamo anche altri brawl iris mi piace un sacco però non lo voglio super mandare sul grado 20 perché poi so che non lo userò perché è così sono così non lo uso più se è vero che è un grado molto molto avanzato quindi ragazzi il video finisce qui io spero che questo video vi sia piaciuto e niente ciao 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 Grazie a tutti.